Il bel tempo di questi giorni ha fatto sì che le spiagge fanesi siano state assaltate dai bagnanti e dai numerosi turisti che in questo periodo dell'anno preferiscono godersi le loro vacanze al mare. Ma in queste ultime settimane a vista d'occhio sono anche numerose le meduse presenti lungo il litorale fanese, pesarese e senigalliese che si sono spiaggiate nell'arenile mentre altre lungo e largo soprattutto dietro le scogliere. Di primo impatto a vederle sembrano prive di vita visto che non si muovono e rimangono capovolte nell'acqua. Secondo le prime analisi degli esperti si tratterebbe della specie Aurelia riconoscibile dalla forma sferica del suo ombrello e soprattutto dalla presenza sulla sua sommità di quattro strutture circolari di color violaceo. Diciamo la presenza che attualmente viene segnalata di queste meduse che sono spiaggiate che sono sulla costa è un sinonimo di buona condizione del mare. Perché? Perché le meduse sono degli animali come tanti altri che vivono nell'acqua di mare, vivono in genere molto lontano dalle coste. Perché? Perché sono degli animali che non hanno la capacità di nuoto, di spostarsi molto ampia, molto forte, quindi fanno degli spostamenti verticali in genere dal giorno alla notte per cercare di trovare la zona dove trovano più da mangiare, più cibo e per il resto sono portate dalle correnti. Quindi quando c'è del corrente che porta le acque del largo, le porta verso la costa, quindi la parte nostra sarebbe lo scirocco quando c'è un po' di scirocchetto, e queste vengono portate sotto costa. Quindi se c'è una corrente che le porta prima in Adriatico, le distribuisce magari in maniera abbastanza abbondante e poi lo scirocchetto che le porta sotto costa, noi le vediamo o sulla spiaggia o dietro le scogliere dove evidentemente queste vengono concentrate, quindi è un fenomeno biologico normalissimo. Secondo alcuni pescatori questo fatto è dovuto anche all'acqua ancora troppo fredda e che ha favorito questa strage di meduse. Un fenomeno questo che potrebbe ancora ripetersi. Si potrà ripetere tutte le volte che noi avremo un scirocchetto che viene dall'arco e un'abbondanza di meduse fuori, perché praticamente queste meduse non è che sono nate ieri, sono nate qualche mese fa, quindi a un certo momento dove la portate la corrente dipende dalle correnti generali dove le portano e quindi non si trovano, poi ne verranno delle altre specie, perché di meduse ce ne sono tante specie. Ma attenzione ai più curiosi e a chi le afferra a mani nude. Se uno le va a toccare dalla parte sotto, anche se è morta, ma morta da poco tempo, può ancora avere qualche effetto, ma se sono morte da qualche ora e che quindi ormai hanno perso una parte di liquido, anche la capacità avuticante, perché sono una specie di piccole palline gonfiate dove c'è un aghetto dentro. Quando uno le schiaccia un pochetto, ha detto, zacchete l'aghetto va fuori e si infilza. Ed è che quello che a un certo punto dà fastidio, però se la vescicola si è già sgonfiata non ha più la forza di sparare questo aghetto dentro e quindi non ha degli effetti.